Ancora una volta il Comune di Pavia si dimostra molto attento alle istanze dei ROM, dei Sinti e dei camminanti. C'è una delibera di questi giorni del Comune di Pavia, dell'assessorato ai servizi sociali, che prevede di istituire una commissione dove si andrà a valutare quelle che sono le politiche di integrazione, le politiche inclusive e soprattutto di immissione nel mercato del lavoro di queste persone. Nella delibera si parla anche di fare per l'ennesima volta l'ennesimo censimento per quanto riguarda le popolazioni, le persone che sono attualmente all'interno dei due campi che sono presenti a Pavia, il campo di Via Bramante e il campo di Piazzale Europa. Ci sorprende il fatto che la solerte assessore ai servizi sociali non sappia esattamente che cosa succede nei due campi e abbia bisogno di un altro censimento. Ci sorprende anche il fatto che ancora una volta il Comune di Pavia, tra le sue priorità, non abbia il problema dei pavesi senza casa, non abbia il problema dei pavesi che sono rimasti senza posto di lavoro, degli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese o dei giovani che sono disoccupati grazie al governo del Partito Democratico che non ha ancora trovato le soluzioni. Ahimè, la Giunta dei Paoli ha la priorità e la sua priorità sono i Rom, i Sinti e i Camminanti. Per noi della Lega i prioritari sono i cittadini pavesi.